Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo anche perché ribadisco dei concetti già emersi nella discussione generale, ovvero l'urgenza, richiamando anche quanto ci ha detto l'ANAC nel 2012, quindi un pochino di tempo fa, ovvero di concludere rapidamente il vecchio piano urbano parcheggi, chiaramente facendo una cernita, facendo un'analisi degli interventi che possono essere portati ancora avanti e che ovviamente sono coerenti con la visione di questa città, quindi portare avanti e concludere rapidamente gli interventi che è possibile farlo e invece espungere gli altri interventi, ribadisco oggi abbiamo solamente cominciato ad eliminare i primi ed espungere invece gli altri interventi che per tutta una serie di ragioni non possono essere conclusi. Però è importante affrontare questo tema, è importante chiudere rapidamente il vecchio piano.